Forse c'è un problema politico, no? Perché già per esempio anche voi del fatto pensate che Draghi questa volta con il Super Green Pass sarà più attento agli equilibri politici generali. Qual è il problema? C'è un problema, Massimo, aggiungo ai problemi, agli aspetti analizzati da Massimo Gianni, c'è un problema di ordine pubblico. Attenzione che la strategia di questi mesi messa in atto soprattutto dal Ministro degli Interni era mirata ad evitare che succedesse qualcosa di grave durante le manifestazioni dei novax, dei negazionisti e abbiamo visto anche recentemente come questa violenza che serpeggia tra questa gente sia anche in qualche modo provocatoria, cercano l'incidente. Allora io mi domando di fronte a un obbligo vaccinale, cioè di fronte a una misura estrema, come questa parte del Paese reagirebbe e se non c'è il rischio che si incrementi il numero di coloro che con il falso problema delle libertà costituzionali... Questo vale anche un po' per il super green pass che è quasi un obbligo vaccinale. Però il green pass e il super green pass fanno parte già di qualcosa che è stato già sperimentato. L'obbligo è una parola già molto molto forte che potrebbe mettere in moto un meccanismo di reazione forse anche incontrollabile. Lei è d'accordo, Guida?